Polo G è veramente uno dei rapper più in forma a livello internazionale e che porta questa roba dell'hip hop veramente ancora ad alti livelli cioè per me è veramente uno degli eredi di tutta quella scuola di cui facevano parte i vari Eminem, Kendrick Lamar cioè per me Polo G è veramente uno dei pochi che può dire faccio questa roba, faccio l'hip hop e lo faccio bene anche oggi e mi piace molto quello che dice e quello che porta fondamentalmente anche in questa collaborazione dove c'è appunto Lil Dark insomma ci tengo a dirlo perché Lil Dark ha portato diciamo il mood di un brano come questo No Return già nel concept di voci dei protagonisti insomma il disco con Lil Baby perché praticamente in questo brano si parla a parte l'attitudine con cui viene affrontato il brano ma si parla comunque di scelte passate che si ripercuotono nel presente si parla di questi personaggi che comunque si soffermano a riflettere su quello che è stato e su quello che è dice piccoli bambini diventano uomini adulti, veniamo da culle disfunzionali c'è l'ammissione della disfunzionalità di un certo mondo che non è neanche colpa tua perché ci nasci all'interno quindi anche qui mi piace questo mood di ridimensionamento di un mondo che invece è stato sempre ostentato negli ultimi anni e poi ripreso da tutto il mondo ma con fare diciamo da pagliacci ridicolo invece qui no, qui ti dice devo imparare a giocare la mano dice non metterti mai troppo a tuo agio, non stare nella comfort zone in un mondo che ti distrugge perché poi ti ritrovi ad essere una persona che non sei dice questa è una piccola merda puoi pensare che sia sexy finché i veri assassini non vengono e ti umiliano stavo guardando mo' su Netflix un film Four Brothers in cui praticamente c'è questo gangster che prende a uno dei suoi scagnozzi gli butta il cibo a terra e gli dice mangialo cane lì che devi fa? Che devi fa là? o gli spari in testa oppure gli fai fare vent'anni di galera poi gli dici ah ninfame ninfame mi vuole umiliare mi fa mangiare la pasta di cane in mezzo al pavimento cioè come un cane porco diaz cioè questo per farvi capire che il mondo diciamo che tanto si ostenta anche in Italia è un mondo fatto di persone misere che così come tu non hai dignità con gli altri magari poi gli altri non ce l'hanno con te quelli che magari stanno più in alto quindi questa è una cosa che ho sempre odiato del mondo diciamo della delinquenza il fatto che tu magari potevi farti il fenomeno in giro con quelli fuori dal giro e poi però magari davanti a certe persone dovevi comunque sta zitto mangiare la voglia perché comunque erano più grosse di idee questa è una cosa che non ho mai accettato infatti sono sempre stato diciamo un cane sciolto nell'ambiente ma questo è un altro discorso tutto il giorno digli di girare il blocco finché il tuo migliore amico non si sdraia quando vedi il tuo migliore amico morire perché qui comunque si parla di ghetti americani si parla di situazioni al limite al margine dove veramente tu hai 15 anni e ti ritrovi in galera per tutta la vita per un errore che hai fatto e quindi è giusto anche parlare di questa roba in questo modo perché in altri paesi accade in maniera differente la criminalità è ovunque però ogni paese, ogni città, ogni luogo ha il suo modo di gestirla e diciamo che se nasci come persona di colore in certi ghetti, in certe zone è difficile che poi ne esci soprattutto se sei in quelle zone di Chicago che insomma non è proprio certe zone di Chicago non sono proprio il top non a caso ci hanno girato Shimless adoro Shimless vabbè comunque a parte questo la canzone è veramente forte è veramente di altissimo livello ma soprattutto ragazzi al di là di quello che viene detto anche da The Kid Leroy al ritornello che ti fa un ritornello veramente della madonna scarafaggi nella culla mamma drogata cioè ti porta queste immagini macabre tristi, pesanti al di là di questo è il flow è il flusso come ho già detto qualche podcast fa è il flusso che fa la differenza è sentire certe voci è sentire il cuore di questi personaggi che solo attraverso il modo in cui lo rappi può arrivare è l'interpretazione è la magia è il teatro del rap è veramente è lì che si capisce non solo che quello che stai dicendo è vero ma che lo senti dentro è quanto è forte la tua esigenza è il teatro del rap è il teatro del rap